La pandemia sta cambiando con la curva epidemiologica calata fortemente negli ultimi mesi e anche la gestione nelle strutture ospedaliere si aggiorna in termini di linee guida per l'accesso in sicurezza delle persone destinate al ricovero e la regione Puglia a rendere noti i nuovi provvedimenti per quanto riguarda le persone da ricoverare prima dell'accesso in ospedale. È previsto un tampone molecolare o antigenico rapido tranne nei casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza. La persona asintomatica che risulta guarita dal covid da meno di 120 giorni non deve essere sottoposta al test e può accedere direttamente al ricovero mentre se è guarita da più di 120 giorni o non ha mai contratto l'infezione si sottopone ad un test antigenico rapido o molecolare. Per i ricoveri in elezione l'accertamento può essere eseguito nelle 72 ore precedenti l'accesso nella struttura. Ai soggetti sintomatici con sintomi respiratori riconducibili all'infezione da covid deve essere eseguito un test antigenico molecolare. In caso di esito negativo o inadeguato al test antigenico rapido deve essere eseguito un test molecolare. In caso di esito positivo la struttura gestirà il caso confermato. Capitolo accompagnatori possono accedere anche gli accompagnatori di pazienti non positivi al covid presentando green pass base. La certificazione verde non è necessaria per chi accompagna persone con disabilità grave.